Ciao a tutti, io sono Paola Androzzi e in Microsoft mi occupo di responsabilità sociale. Noi da tanti anni lavoriamo con Fondazione Mondo Digitale perché crediamo che il potenziale dei giovani debba essere amplificato ed espresso alla massima potenza. Progetti come Meet Non It contribuiscono sicuramente a agevolare le competenze e a favorire l'occupazione dei giovani nel mondo del lavoro. Quindi noi ci auguriamo che questo progetto possa continuare e possa portare sempre un numero maggiore di giovani a entrare nel mondo del lavoro con un solido bagaglio tecnologico.